Ciao a tutti, vediamo 5 regole d'oro per tenersi un uomo. La prima regola è quella di iniziare un sistema in cui sei tu a gestire le modalità e i tempi della relazione con cui avvengono le cose. Perché più riesci ad avere una gestione, diciamo, decidere ad esempio senza imposizione ma attraendo lui su queste tue esigenze fondamentalmente. Cioè chi gestisce il controllo e quindi gestisce le modalità d'incontro, gestisce la sessualità, riesce a, diciamo, a trattenere l'altra persona che diventerà praticamente dipendente. Invece chi, se invece, anziché riuscire a gestire, sei gestita, diventerai un oggetto, un oggetto che può cambiare con un altro fondamentalmente. Poi una seconda regola è quella di imparare a stimolare quelli che sono le sue fantasie sessuali, sorprendendolo in modo tale che non abbia mai la certezza di aver raggiunto il limite con te, ma sempre avendo nuove aspettative. Poi devi anche coinvolgere un po' la sua parte logico-razionale, quindi devi lasciargli degli spazi, non devi essere, se lui ha delle cose da fare, lascia delle fare senza interferire. Lascia degli spazi liberi per potersi muovere, non essere gelosa, possessiva, rancorosa, perché sono tutte cose che ammazzano, diciamo così, la parte logico-razionale che inizia a mettersi poi contro. Devi mantenere il mistero nella relazione, cioè soprattutto sulle questioni fisiologiche di questo genere, questo lo dico sempre, evitare depilazioni, che ne so, crescita di capelli, tinture, cose di questo genere, abluzioni. E poi crea dei vincoli logici con degli impegni, cioè più impegni si prende, che possono essere dal comprare qualcosa assieme, una casa, che ne so, un'auto, una barca, un cavallo, un cane, qualche cosa. Ovvio, poi, vabbè, matrimonio, figlie, convivenze, eccetera, sono tutti comunque tasselli che contribuiscono, diciamo, a mantenere. Non è che da soli servono, però è molto utile, sono molto utili per consolidare comunque una relazione. Bene, per questo video è tutto. Se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda e di ricevere un video di risposta. Il servizio è gratuito, valido solo per l'iscritto al canale. E se questo video ti è piaciuto metti un like e condividilo con i tuoi amici. Ciao!